Cerca di sfondare. Mia figlia cerca di sfondare nel mondo della musica. La ama come me, ma io ho cominciato a lavorare a 17 anni e poi mi sono sposata. Ieri l'ho vista in televisione in un talent show, col suo viso puro, intento, e mi sono messa a piangere. Ma vi giuro, non perché vedevo mia figlia sotto i riflettori. Perché? Perché il talento è una condizione interiore e in tua figlia hai riconosciuto il tuo, non a caso è tua figlia.